Il 31 maggio 2012 nasce Noemi, un giorno di felicità. Ben presto la felicità dovrà confrontarsi con la fragilità, ma nulla può fermare una forza della natura. La solidarietà genera l'associazione Progetto Noemi, tanti obiettivi raggiunti che richiedono il sostegno costante. Restiamo insieme, vi aspettiamo il 4 giugno alle ore 21 al Teatro Marruccino di Chieti, Uniti a Difesa della Vita, info e prenotazioni 333 516 99